L'avvertenza Gela proda ancora sui tavoli palermitani. Occorrono misure urgenti e straordinarie per arginare l'emergenza di questa vicenda più volte definita un dramma senza fine. Ieri all'incontro nel capoluogo siciliano per il comune di Gela era presente il primo cittadino, Domenico Messinese. Ma questo è un tavolo che segue il tavolo che è stato fatto qualche giorno fa in prefettura dove si è analizzato le peculiarità delle varie difficoltà che hanno le aziende sia a quelle di lì che ancora operano, sia a chi è che ha licenziato i propri dipendenti e chi invece è fallita già da diverso tempo. Sono problematiche diverse e le soluzioni nell'immediato sono quelle di dare quel reddito a queste persone per poter avere un minimo di tranquillità. Nel frattempo che noi eravamo in quel tavolo tecnico la politica siciliana era a Roma nella figura del vicepresidente all'assessore Lobello, a Roma proprio al Ministero dello Sviluppo Economico per portare il problema Gela a chi è che può prendere decisioni e chi può fare le leggi per risolverlo. Ci sono novità, Sindaco? Le novità è che tutti siamo concordi dall'amministrazione, ai sindacati, alle figure istituzionali presenti al tavolo che la vertenza di Gela si può risolvere solo con un interessamento da parte dello Stato centrale. Ci sarà? Già abbiamo detto che oggi era in atto un primo confronto. Noi come amministrazione è da tempo che portiamo il problema Gela ai tavoli romani dove si può decidere. Ora insieme all'amministrazione si sono unite le forze sociali e la politica siciliana. Quindi con una voce più forte forse il Governo centrale riuscirà a sentire i problemi di Gela, riuscirà a sentire il dolore delle persone di Gela.